Come è Football PS4? Una merda, è Football nel senso Allora, icone Siamo pronti? Direi di sì No, non siamo pronti, è una bugia Posso aprire? Buonasera Ciao, Nabi Stoicov doppione, Smichel doppione e Baresi95 Oppiamo Smichel o Baresi Non lo so, sinceramente Che è? Delta si chiama, no? Sta pure su Ostore, però non ce l'ha dato ufficiale Quello è una bob assurda Cioè, quello sembra veramente Il titolo è bello perché il 3 l'ho giocato Ernino Torres Scusa, ma non c'è pure Brest e pure i Futtis? Futtis vissi ad oggi? Zero Proprio zero, zero, zero Con gli occhiettini che fai così Cioè, introvabili E il terzo, sì, sì Il terzo è Pure il terzo è tanta roba Allora, siamo pronti Allora, 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 allora Ufff Ah, ma le hai fatti già tutti a due? Mamma mia, ma sei il mostro, sei Andiamo che Che si riesce a fare Che poi il costo non è manco alto Cioè, gli 88-89 Ci sta che li chiede E probabilmente Ho 3 coglioni sui tozzer Ogni volta me li devo farmare Me devo farmare il pick if Rompe coglioni Ma direi l'unico che non è già posseduto Quindi Come? E poi l'altro Speriamo in uno Comunque Futtis Eccolo Baresi Futtis Eh, io capisco Tutto bello Però Baresi So 100k 50 Sì, 100 pure troppo Oh, questo più di 2,60 Sta Cioè, se può pure definire Una botta di culo Non è manco male in game Ma buona È pure bravo, però Donald, sai, il drop dei toast Motila, vanno di nuovo dei pacchi E ti continuano a chiedere Che dici? Bella, ragazzi Vi ricordo sempre Che se siete alla ricerca Di crediti Per gli AFC24 Scontati Veloci E sicuri Vi lascio il link In descrizione Con il codice sconto Yoshi Quindi mi raccomando Fatene ovviamente Buon uso E in maniera Intelligente Io vi do un bacione E ciao E abilmente Mi fai gli scambi Sì, beh, ormai sei entrato In un loop In cui puoi farmare all'infinito Perché puoi farti I pick Oppure le sfide Quelle lì Gli 89 li butti Negli 89 Ti fai altri pick Ti fai altri aggiornamenti Cioè, diciamo che ora Il farming è già Fattibile Ti devo dire Pirlo bello Non è doppione Allabiamo Pirlo Quanto sciabbi Alonso Ma chissà Lo scoppia Il primo carino Posso dire L'evo di oggi 175k Brutta Per essere brutta Bobby Charlton Vabbè Dai Viamo, eh 4 skill Sì, vabbè Ovvio che volevamo 5 de skill Eh, dai, su Però mezzo milione Fammo vedere in posto Bobby C'ha tutti i 99 C'ha 3 playstyle Una bella Pure lui E trivele Al tempo Mamma mia La trivela Quante ne faceva Su me tu è veramente bello Visto anche com'è Quest'anno E tu Che Io l'ho durata Inizio gioco Era devastante Era E poi certo Il problema De tu è che S'ho 30 Tu sfide Farmabile Sì, però Ne rottura Dei coglioni Da fa Eh, quello è Dai, andiamo a vedere Il primo pick Eh, posseduti tutti In realtà Non è neanche male Perché E il 97 Doverall È sempre il 97 Quanto sta un 97 Doverall Questo ce l'hanno Tutto Mezzo milione Ma come mezzo milione Sto smichol Ma che senso Scusa Ma mi sembra Tanto mezzo milione E andiamo su Eh, ho capito Cosa stanno i portieri Ma Ce l'hanno tutti Mamma mia Guarda Questo che esce a cura Per di che racconta Ormai per di Futtis Comunque Ancora Uno Che è Bare Bare Siamo visto L'artre Ce frega Cazzo Scontri 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 Allora Siamo pronti Siamo Aspetta Un attimo Oddio Ok Ci siamo Sta a mettere Un po' più dritto Che sto Tutto spaccato Ciao Piedino Pip pipipipipipipipipipi Oooo Oh Mamma mia che monnezza Poi sti due campi Ma tutti e due 5-5 hanno fatti? Ah io quello 5-4 Perché se sa me diventa troppo forte Che sei pazzo Eh Sia mai Sa caricare Come va? Va però potrebbe annarmi Ah ho capito Eh picca vincente Sono contento Ce la famo? Ok Sì Riproviamoci Vabbè virle check Che io ho di Putanna peggio dai E vai via Pronti Riberi Vabbè dai Ah io ho una roba nuova Pugliel non credo Poi vedi se Vabbia Tra Zambrotta e Riberi Magari e tutto quanto Però Riberi a me mi ha fatto schifo Tutto è bene Però è onesto Vale 100.000 crediti come carta Comunque Beh peps Che fai Non lo fai Te ne privi Rifallo Allora Che c'abbiamo Iconico Ah tu Qui c'abbiamo proprio Il vitae L'alloggio Allora SVG Tot Pip E pupo Eccolo Grazie Veillotte Ben tornato Che prendiamo qui Di bello Che Dici C'è un bel McCanny Poi Andiamo subito Con Boba Orca Penso Perché tanto Questo è Icona E icona Via Benber Check Gli manca Aggiungiamo la collezione Di abbiate sto check Va Andiamo subito Con l'ultimo Il più bello Il più forte di tutti Beh Dio del Piero De Selle Manco orribile Come pick L'unico problema È che Insomma Poteva Poteva sicuramente Andare meglio Picchettino 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 Doppio picchettino Presumo Müller Che è 96 Andiamo Il resto Che c'è È proprio Sfornato male Mamma mia Guarda Che bidone Qua Che gli ha Tirato Vedete Nedved È manco orribile Però Provando A riprenderci Andiamo 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 Vabbè Che Xavi e Desa è lì Vabbè Desa non è male Xavi fa schifo Cioè sto schifo Doppio picchettino Dai Andiamo ad aprire Andiamo a vedere cosa esce fuori Ma Kirs è sempre un piacere scularti Direi check Ma quant'hanno fatto 4-4 3-3 Su dei cuscini Direi check Sono uscito da dove? Ah c'avevi i pacchi Mi sono dimenticato Ah sto pezz Koeman Koeman Niente se può di incazza E' simpatico Sembra carino comunque Come roba Allora Ti direi Ti direi Ti direi Che adesso Prendiamo e andiamo a vedere cosa esce da qui Ecco appunto Niente Che esce? Una bella caccatuna esce Secondo me si potrebbero salvare Andiamo a vedere qua che ci stava E' vero E' vero Sì Koeman Senza power shot Toro Sempre quel cazzo De playstyle De punizioni Che fa a cagare Bobby Charton Dai Tutto sommato Eh che è un squadrone Ma bella squadra Beh Bobby e Bobby Direi Eh Ah Eh Sta un po' cotto No da oggi Come fai in macchina Me sdraio Me sdraio sul fianco Tiè Becca adesso Trio dei campioni Va Meno male Ci voleva Belle Belle lente 15 Vabbè ma super natural Che è tipico Power Ranger Cioè nel senso Comunque si purete di 15 stagioni De qualcosa Però magari Sono veloci Eh Allora Andovina Smychel Direi Smychel Per l'overall Prendo eh 3 2 1 Via Nel senso Che c'è sta Diciamo La struttura Del Stoicob Meglio De De Van Nistere Sinceramente Nabbete Sto picchi Con Su account Nostro Che ci regala Mamma mia Pia sto Annister Rai Però Insomma Che culo Che c'è sta